a no no non è qua quale andare assi si muovono come faccio io ma cosa si muove il visuale di merda ma cosa si muove il visuale di merda chissà che lo aspetta cosa pensi volessero fare immagino niente di buono cutter era con loro forse cercavano un posto tranquillo quanto mi dicono questi lamoritti si fanno un po' isolati c'è che ora che ci penso meglio non comprare carne ma finito si non farti individuare quando vuoi il movimento non faria nessun ascolto non farti individuare c'è il mio alleato che cazzo oddio cosa fa agli oh questo chance presto troveremo cerce come ti avevo detto ah ok se posso signore dove avete appreso tutto questo non si impara se si viene cresciuti come lo sono stato io dai su corri corri sta miglietto però la percezione è fondamentale per l'ordine guida i piedi quando si corre ci si arrampica un uomo slalom e passare ma soprattutto trasforma i sensi si inizia a percepire la realtà in un modo corso cazzo attento il posto è sorvegliato dobbiamo evitare le guardie eh già ma sapete cosa faccio io non evito no no oddio dove sono lì l'aleato sta lì oh no cazzo deve essere vicino agli alleati no merda 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 si in picco certo seguimi come faccio di chiamarlo vieni qui seguitevi su vieni veloce no mi hanno individuato fanculo no cazzo no adesso ci vengono tutti in contro porca troia lottiamo sono un fottuto coglione sono un fottuto coglione adesso arrivano tutti cazzo ragazzi no eh così cazzo 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 come hanno fatto non lo so ma non lo so io adesso vi all'apprendere quei pastasi si ole dai attaccatemi ok sans eh dovevi attaccatemi no mi ha preso no mi ha preso preso ok non doveva ucciso anche quello vai spazzo no mi ha preso bastardo e adesso no eh va bene volevo rendermi anonimo però ce l'ho visto come hanno fatto quelli lì boh ma io non lo so li abbiamo ucciti tutti 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 li abbiamo uccisi tutti li abbiamo uccisi ma è chiusa dovrò trovare la chiave aspetta la chiave c'è sempre una cazzo di chiave eh lo sparo? lo sparo? no? 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 non posso cazzo no la buttata a terra porca trota oh dov'è? vieni sul coraggio dai vieni vieni dai su no voglio sta lì mi ha visto? si no basta sta su su va bene ok bim 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 iniziamo vai forza su 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 ci siamo perfetto spero che non venga lunga la missione perchè devi sempre rendere tutto così difficile benjamin? basta che tu mi dia ciò che mi devi e tutto sarà dimenticato non pago non mi serve protezione è ovvio che ti serve protezione altrimenti non saresti qui ooo le sputare sulla scarpa eh se ti uccida non dovevi ora che vogliamo farmi del nostro ospite magari tagliamogli le mani cosa non potrà più operare o magari tagliamogli la lingua ah la lingua si la smette di blatterare o magari tagliamogli il cazzo ah 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 si la pianterà di fottaci perchè il cazzo di fottaci vabbè quante opzioni non so quale scegliere tutte e tre tutte e tre no un momento forse sono stato maleducato a rifiutare prima mi spiace tanto benjamin ma ormai è deciso si ragionevole sai lassi pinca lo sono già stato ma ti sei approfittato della mia generosità non mi farò fregare una seconda volta fai bene eh devo dargli ragione mi spiace temo di non avere lo stomaco per assistere a tali mutilazioni chiamami quando è finito te ne partirai sei da scapito io ti ucciderò no non credo proprio non credo proprio va bene ok che si fa? i tuoi sono canaglia degenerata come te ora basta scusate cambio ma come si come mai non si nooo ho sbagliato eh si uccide fanculo l'ho ucciso ma porca trota ma non ci credo sbagliato nooo desincronizzato nooo potrei tenermi un souvenir magari si non voglio ci ecco lui spara dai cazzo sto per lontano no un rifiuto umano grande l'ho ucciso si cazzo ok spada spada in mano si wow bella questa volevo proprio farvi vedere a voi nella telecamera come si uccideva qualcuno bella che che siete? Aytan Kenway il vostro servizio ma io non riesco a capire certo sei imbambito seguitemi signor George e presto capirete come si aspettano vai in ben è venuto incontro io ti uccido hai capito io ti uccido eh lo uccido ma io lo uccido si dai venite si eh mi ha spinto scusate ragazzi mi ha spinto benissimo ragazzi ci vediamo al prossimo episodio da da queste uccisioni tutte in contraattacco ci vediamo olè al prossimo episodio di Assassin's Creed 3 ciao a tutti